Nel piccolo borgo di Oliveto, nel comune di Civitella in Val di Chiana, si è ripercorsa la natività tra momenti di vita contadina ed antichi mestieri. 40 comparsa hanno animato il paese per la seconda edizione del presepe vivente. Dislocate negli angoli del piccolo borgo hanno ripercorso la nascita di Gesù Bambino. In tutto il paese quindi l'atmosfera magica del Natale, tra musiche e sapori tradizionali per riscaldare gli animi e ristorare gli spettatori freddoliti. Prossimo appuntamento con il presepe vivente ad Oliveto, domenica 3 gennaio. Grazie.